Un nuovo incarico, un nuovo obiettivo. Sendari, un'isola a nord di Creta. Nient'altro che scoglie i gabbiani. O così credevamo. I nazisti intendono usare gli U-Bot per tagliare le nostre rutte di rifornimento nel Mediterraneo. Per riuscirci gli serve una base. Stando alla nostra spia nella marina tedesca, la nuova base sorgerà a Sendari. I servizi inglesi vogliono che la neutralizziamo. Così dovrò assassinare l'ammiraglio Hermann Richter, il comandante della base. Qualsiasi altro danno inflitto sarà sicuramente utile. Per fortuna, la nostra spia mi ha lasciato delle scorte in una delle fortezze marine. Ne avrò bisogno. Il prossimo evento potrebbe cambiare il corso della guerra. Il prossimo evento Il prossimo evento Questa maledetta base è più protetta del bunker di Hitler. Il prossimo evento Grazie a tutti. 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 Il vostro Führer, Hitler, deve essere qui sull'isola. La mia missione è appena cambiata. La nostra spia dovrebbe aver lasciato dei rivolimenti per me. La spia è stata di parola, ecco i rivolimenti. La mia missione è appena cambiata. 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 Devo aver preso tutto. La mia missione è appena cambiata. 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 Conoscere la mia missione. Alla mia missione è appena cambiata. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti. 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 a tutti.